Ciao, e bentornati su Mystery Ricappedita. Oggi andrò a spiegare una commedia sportiva sudcoreana intitolata Champion. Attenzione spoiler. Buona visione. La storia parla di un ex giocatore di braccio di ferro coreano di nome Mark. Attualmente lavora come un buttafuori in un club in America. Una sera, al lavoro, viene avvicinato dal suo vecchio socio Kim, che lo spinge a competere in un incontro di braccio di ferro. Mark non è interessato, ma Kim non si arrende, e alla fine lo convince. Vanno dall'altra parte del club dove le persone si divertono a scommettere sui match. Il ragazzo contro cui gareggerà ha vinto l'intera notte, quindi Mark è lo sfavorito. Anche se il ragazzo sarà sicuramente più stanco, nessuno vuole scommettere su uno come lui, e ciò risulta essere un vantaggio per Kim. Il match inizia, e Mark dimostra perché era un ex professionista di braccio di ferro. L'avversario suda molto, ma non riesce a muovere la mano di Mark di un centimetro. Senza nemmeno provarci, Mark vince la partita, il che fa vincere a Kim un sacco di soldi. Un conflitto nasce quando il ragazzo che ha perso si rifiuta di accettare la sconfitta. Colpisce Kim, provocando alla fine una rissa tra Mark e un gruppo di clienti. A causa della rissa, viene espulso dal lavoro. Una settimana dopo, ottiene un altro lavoro come guardia di sicurezza in un negozio di alimentari. Fa una vita decente ed è contento della sua vita, ma a volte gli manca casa. Poi, un giorno, riceve una telefonata da Kim, che gli chiede di andare in Corea. C'è un torneo di braccio di ferro che inizia a Seoul, il cui vincitore potrà competere a livello internazionale. Mark fissa le sue vecchie medaglie per molto tempo, prima di decidere di correre il rischio più grande della sua vita. All'atterraggio a Seoul, Kim viene a prenderlo. Vanno poi in un ristorante, e parlano di affari durante un pasto. Kim vuole essere l'agente di Mark e occuparsi della parte commerciale della sua professione. Vuole che Mark faccia bene, ma ha intenzione di entrare nel business delle scommesse per fare più soldi. Per questo dovrà sfruttare l'abilità di Mark. Per il resto della giornata, il duo fa un tour di Seoul. In una delle destinazioni, alcune ragazze scambiano Mark per un'attrazione turistica e scattano foto con lui. Dopo aver vissuto in America per molti anni, la lingua coreana di Mark non è perfetta, il che lo porta a molte conversazioni imbarazzanti. Di notte vanno in un club, ma Mark sta tutto il tempo in un angolo, lavorando inconsciamente di nuovo come buttafuori. Sulla strada per l'hotel, Kim chiede se abbia mai voluto scoprire dove si trova la sua madre biologica. Si scopre che Mark è stato dato in adozione da bambino. Dice che non gli interessa incontrarla, poiché è tutto nel passato. Kim lo lascia nel posto in cui starà per la notte, che sembra essere un nuovo hotel. Mark sperimenta un letto ad acqua vibrante per la prima volta, ma quello che cattura la sua attenzione è una confezione regalo. È di Kim, e ha un telefono all'interno. Quando controlla, trova su di esso l'indirizzo della sua madre biologica. Da qualche altra parte, Kim si avvicina a uno strozzino milionario di nome Yoho, e gli chiede di sponsorizzare Mark. Inizialmente, viene appeso a testa in giù per aver parlato con Yoho senza permesso, ma dopo aver guardato un video di Mark, il gangster accetta di sponsorizzarlo. La sua unica condizione è che Mark dovrà vincere e perdere come ordinato. La mattina dopo, Mark segue la mappa sul suo telefono e arriva a un indirizzo. Prima di bussare alla porta, due ragazzini gli si avvicinano. La sua corporatura fa credere loro che sia una bestia, quindi, per evitare di spaventarli, se ne va. I bambini raccontano alla madre Sumi dello strano ragazzo in piedi di fronte alla loro casa. La famiglia spia Mark attraverso la finestra, e lo guarda allontanarsi. Sumi possiede un negozio dell'usato che non sta andando bene. Deve molti soldi al gangster Yoho, che la disturba ogni volta che ne ha l'occasione. Quel giorno al lavoro, nota Mark e Yoho che stanno entrando in un club nel centro commerciale. Kim ha portato Mark per presentarlo allo sponsor, e mostrare le sue capacità. Lì, ci viene presentato anche un giovane ricco e viziato chiamato Cheng. È il partner di Yoho, e quello che spende più soldi per le scommesse. Mark dimostra il suo valore, sconfiggendo un uomo corpulento della marina. A causa della vittoria, a lui e Kim viene concessa una camera di lusso in un hotel a 5 stelle. Kim riceve un messaggio da Yoho che dice che Mark dovrà vincere il primo match domani, ma perdere il secondo. Ha paura che Mark non accetti le condizioni, così escono a cena e Kim solleva l'argomento di perdere la seconda partita. Con sua sorpresa, Mark accetta di farlo senza problemi. La mattina seguente, vediamo Sumi preparare i suoi figli per la scuola. Il primogenito Ju Young è preoccupato che l'omone arriverà di nuovo a casa loro. Sumi sospetta che Mark sia qualcuno che conosce. Dopo che i bambini sono andati a scuola, tira fuori vecchie foto, e ne trova una con il piccolo Mark e sua madre. Fuori, i ragazzi lo incontrano di nuovo. La più giovane, Jun E, è eccitata, ma Ju Young minaccia di chiamare la polizia se vedrà di nuovo Mark. Nella scena successiva, ci viene presentato il campione di braccio di ferro numero uno della Corea, di nome Combo. Yoho lo invita al club quella sera per valutare l'abilità di Mark. Non vuole scommettere soldi incautamente fino a quando un professionista non gli darà il via libera che Mark è effettivamente degno di fiducia. La sera, tutti si radunano al club. Mark va contro un gigante di 7 metri nel primo scontro. Vince con grande fatica, impressionando anche il campione della Corea. Anche Sumi tra il pubblico sta guardando Mark. Durante la pausa, Yoho prova a toccarla in modo inappropriato dichiarando che la possiede a causa dei soldi che lei gli deve. Mark vede ciò, e non ne è felice. Quando inizia il secondo match, lui deliberatamente vince, per fare un dispetto a Yoho. Quando Yoho cerca di affermare la sua proprietà, viene messo da parte. Kim perde la testa cercando di compiacere il capo e Mark allo stesso tempo. Si rende conto che Sumi è il motivo per cui Mark lo ha tradito. In un impeto di rabbia, va da lei per chiedere informazioni sulla sua relazione con Mark. Allo stesso tempo, Yoho arriva, e inizia ad aggredire Kim. Mark interviene, provocando l'inizio di una lotta tra tutte le persone di Yoho e lui da solo. Durante il combattimento, Sumi chiede a Yoho di fermare i suoi uomini, ma viene gettata a terra. Il trambusto si ferma quando la polizia arresta Mark e Kim. Hanno bisogno dell'identificazione di Mark per poterlo lasciare libero, ma ha perso la borsa e il passaporto nella rissa precedente. Il poliziotto e Mark vanno uno contro l'altro in uno scontro, dove il secondo dimostra di essere in realtà un professionista del braccio di ferro. Tuttavia, l'uomo rifiuta di lasciarlo andare senza una corretta identificazione. Proprio in quel momento, Sumi arriva alla stazione di polizia con i suoi figli. Ha trovato il suo passaporto, e ha una foto di lui e sua madre che prova la sua identità. Viene quindi rivelato che Sumi è la sorellastra di Mark, e la loro madre è morta un anno fa. Mark ha il cuore spezzato nel sentire la notizia, e non sa come elaborarla. La famiglia invita Mark e Kim a stare a casa loro per qualche giorno. I bambini lo adorano per la sua personalità unica. Alla piccola June è piace coccolarsi con Mark, mentre June Jung inizia a parlargli più spesso. Fuori casa, un gruppo di adolescenti fuma, rifiutandosi di andare via anche quando Sumi glielo chiede, ma quando Mark arriva davanti a loro, si scusano e scappano in un istante. Il giorno dopo, la gente di Yeo viene a prendere il denaro da Sumi e la minaccia. Allo stesso tempo, Mark sta per partire con le sue cose, non volendo essere un peso per la famiglia. Manda via gli strozzini, ma i teppisti gli fanno capire che dovrebbe stare con la sua famiglia per proteggerla. Durante i giorni seguenti, si divertono molto tutti insieme. Vanno ai buffet, mangiano insieme, giocano insieme, e vivono come una famiglia felice. Fino a quel momento era difficile per Sumi gestire un'attività ai due bambini da sola. Casa sua è piena di vestiti disorganizzati dei suoi affari. Un giorno, torna a casa, e vede che è stato tutto pulito. Mark si prende cura anche dei bambini in modo che possa concentrarsi sul lavoro. Nel frattempo, Kim è nei guai a causa della mancanza di denaro. Dopo aver visto Mark con i bambini, ottiene un'idea, e chiama un amico che lavora in una società di radiodiffusione. Vuole documentare la vita di Mark per guadagnare la simpatia della gente, insieme a del denaro. Mark è scettico, ma accetta di farlo comunque. Nella scena seguente, vediamo Mark e la famiglia che vanno in gita. Si imbattono nel campione di wrestling coreano, Combo, che gareggia con gli sfidanti per un evento di beneficenza. Mark lo sfida e vince lo scontro, sorprendendo tutti. Qualche settimana dopo, la storia del suo duro passato, dell'adozione, e delle lotte nel wrestling viene trasformata in un documentario televisivo. Lo spettacolo diventa un successo immediato, e fa loro una discreta quantità di denaro. I bambini iniziano ad amare ancora di più il loro zio. Un giorno, mentre vanno a scuola, sentono per caso una donna che parla male di Mark. In risposta, June dichiara che suo zio è un campione, e gli fa promettere che vincerà il campionato nazionale per lei. Nella scena seguente, ci viene presentato il padre di Kim, che è vecchio ma lavora sodo per sopravvivere. L'unico motivo per cui Kim è irremovibile nel fare più soldi è che vuole dare a suo padre una vita migliore, in cui non deve più lavorare. Al ritorno a casa quel giorno, June Jung chiama Mark, e gli mostra le email che sua madre scriveva tutti i giorni. Mark scopre che il più grande rimpianto di sua madre nella vita è stato darlo in adozione. Per tutta la sua vita, ha scritto diverse email a un indirizzo che non era il suo. Nelle email, ha descritto quanto fosse dura la vita quando era con lei. Non poteva permettersi di nutrirlo, e voleva che avesse una vita migliore. Anche sul letto di morte, tutto ciò che desiderava era incontrarsi con lui e chiedergli scusa. Mark scopre anche che Sumi non è la sua sorellastra, e sua madre l'ha accolta quando era una bambina dopo la morte dei suoi genitori. La notizia sconvolge Mark, rendendolo furioso con Sumi per non avergli mai detto la verità. Nella scena seguente, la famiglia si reca alla tomba della madre di Mark. Durante il viaggio, lui smaschera le bugie di Sumi. Mark ha deciso di tornare in America, lasciandoli indietro per sempre. Kim cerca di fermarlo, poiché non ha ancora preso parte al torneo che è tra una settimana. Tuttavia, un frustrato Mark lo accusa di essere suo amico solo per soldi, e se ne va. Nel montaggio seguente, vediamo il campione della Corea, Combo, che si allena per il campionato. Il gangster Yeo ha anche assunto una bestia di nome Kane. Era uno spietato giocatore di braccio di ferro, famoso per aver rotto ogni singolo braccio contro cui lottava. Alcuni anni fa, è stato arrestato per aver usato delle pillole per prestazioni eccessive nei match. Si esercita anche lui al meglio, pronto a rimettersi in gioco. Poi, finalmente, il giorno del torneo arriva. I ragazzi sono a casa da soli, quando si accorgono di essersi dimenticati di restituire la medaglia a Mark. Usando questa scusa, salgono su un autobus e si dirigono verso l'arena per vederlo lottare. Qualche tempo dopo Sumi riceve una chiamata dalla sua amica nell'arena e deve correre a prendere i suoi figli. La competizione inizia e Kane, Mark e Combo vengono tenuti in tre diversi gruppi. Loro dominano i match dei rispettivi gironi e arrivano alle semifinali. Uno spietato Kane fa male a molti dei suoi avversari e va in finale. L'investitore milionario Chen e la sua gente hanno scommesso tutti i loro soldi su di lui. Dopo aver visto come si comporta bene Mark, hanno paura di perdere tutti i soldi. Così, Chen gordina a Yao di fare tutto il possibile per assicurarsi che il proprio giocatore vinca. Yao, a sua volta, offre a Kim 200 mila dollari per convincere Mark a perdere in semifinale contro Combo. Kim accetta i soldi e va a dirlo al suo amico, ma Mark si rifiuta di concludere l'accordo. I soldi ripagheranno tutti i loro debiti e soddisferanno i loro desideri di vita, ma non valgono comunque quanto la promessa che Mark ha fatto a June. Lotta quindi contro Combo in un match intenso e alla fine vince. Durante la pausa tra gli scontri, Yao cattura Kim e procede a picchiarlo. Tuttavia, i teppisti vengono fermati da Mark. Spinge il gangster a terra e salva il suo amico. Kim si dimentica dei soldi e gli chiede di vincere ad ogni costo. Il match finale inizia e tutti trattengono il respiro per guardarlo. Kane gioca scorretto e fa scivolare deliberatamente le loro mani. Tira anche molto forte il pollice di Mark, rendendolo più lento ad ogni pausa. La palla sembra cadere nel campo di Kane, ma proprio in quel momento, dal lato dei suoi occhi, Mark vede i bambini fare il tifo per lui. Con rinnovato interesse a dimostrare loro il suo valore, Mark spinge con un'unica mossa il braccio di Kane, e lo sconfigge. Nell'ultima scena, Mark dice a sua madre che la ama in televisione. Non può fare a meno di piangere, al pensiero di quanto abbia sofferto. Il film finisce mentre tutti celebrano la vittoria. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.